C'è bisogno di una vera sinistra anche in Europa e questa è la convinzione di rifondazione comunista che alle elezioni europee si presenterà con il simbolo di la sinistra. A rappresentare l'Abruzzo come candidata nella circoscrizione sud e Violetta Arcuri, a lungo operatrice psichiatrica dell'ASL di Pescara, è già impegnata in politica con una lunga militanza nel consiglio comunale del capoluogo adriatico. Vogliamo in Europa che sia femminista, ambientalista, antiliberista e antirazzista. La sicurezza che invoca Salvini e i suoi alleati, che sta nel portare, nel alzare muri e nel chiudere i porti, la sicurezza per noi non è quella, la sicurezza è la giustizia sociale, quindi noi ci batteremo per quello. Ci batteremo contro le violenze sulle donne, ci vuole uno sguardo femminista sull'Europa e quindi più donne, noi ne abbiamo candidate tante, capolista anche. Il segretario nazionale di rifondazione comunista Maurizio Cerbo sottolinea come il GUE nel Parlamento europeo possa essere il solo argine all'avanzata della destra nazionalista e sovranista. La nostra lista fa riferimento alle analoghe formazioni che ci sono in tutta Europa, da Unidos Podemos in Spagna, ai compagni che in questo momento del Partito Comunista e del blocco d'esquerda in Portogallo, alla sinistra francese, alla Linke in Germania, a Siriza in Grecia, insomma tutte le forze che combattono questa politica che è al servizio dei più forti e dei più ricchi. Sono state le politiche sbagliate degli ultimi dieci anni che hanno trasformato un personaggio come Salvini in un leader popolare. Per battere la destra c'è bisogno di una sinistra che non tradisca lavoratrici, lavoratori disoccupati e pensionati come è accaduto nell'ultimo quindicennio in Italia.